Ciao a tutti amici di PlayRain 6.2, oggi siamo qui con la nostra vita da youtuber, cioè youtubers like Cioè hanno fatto un gioco dedicato agli youtuber, non so dire, agl A youtuber, molto bene, c'è tanto di scenetta iniziale, attenzione, ce ne possiamo battere le palle Ma assolutamente salta al scenetta e chi se ne prega Facciamo biminchia gamer ragazzi, biminchia gamer che però potrebbe essere anche un bravo youtuber Chi lo sa E non so, come c'è ai capelli sotto? C'ha un po' un codino, intanto fagli lì così, però scuri, che è? Però scuri, sì, scuri, così dai sono la super bimbo minchia Ok, ok Ok, poi gli occhi direi che possiamo farli tipo da bimbo minchione Poi facciamo la barba, sì ce l'ha la barba, attenzione No, così, però è corta cazzo, ma perché non ci sono le cose intermedie? Che è strano Vabbè, allora fai la rima Facciamo questa, va bene E poi il cappello, attenzione al cappello No, non c'è il cappello al contrario Nooo, non lo possiamo fare Vabbè, dai, gli facciamo un cappello qualsiasi, tipo questo È biminchia, è lui Va bene Un qualcosa da biminchia da mettersi, questo è troppo lineato No, questo è troppo... Però direi che è bastato questo Io direi, quello blu, quello blu, questo è abbastanza, no? Bella a tutti i ragazzi Bella a tutti Sono biminchia gamer No, questo è stiloso, ragazzi, abbiamo fatto uno che in realtà... Sì, infatti Ah, adesso sì che è un bimbo minchiazza Ah, guarda che c'è qua Che bellino, però È proprio un bimbazzo minchia Con le scarpe rosse, sì Superstar Personalità Superstar Cioè... Cioè uno che fa video virali Loaded Che è pieno di soldi Pensa ai soldi Sociable Che in realtà preferisce incontrare persone nella vita reale Genius È un genio, in realtà magari non ha tante views Party Animal Che fa tante feste È romantic Ma scusami, noi per esempio come saremo? Ma io direi Genius Uuuuh Boom Vabbè, noi siamo alla via di messo tra Party Animal No Party Animal, tra Sociable È Loaded Boom No, è anche... È romantic Antic Vabbè, lo facciamo tipo superstar, dai Fa video virali Facciamo superstar, superstar Fa video virali Superstar Poi gaming Gaming, gaming Possiamo scegliere solo gaming Ma che cazzo vuol dire? Quindi se volevo fare fashion, per esempio Che vuol dire? Non ride and play Perché questo qua è giustamente Allora, bimì Biminchia Name of the channel La stessa cosa Determine television Biminchia Gamer Channel Ok E comincia la nostra vita da youtuber Il caricamento è questa barra di caricamento Così si era solo Ok Mettiamo in chiaro che non è una sponsorizzazione L'abbiamo acquistato con i nostri soldi No, no Anzi è costato quanto? 17 Ah 12,90 euro da Instant Gaming Ecco L'unica cosa che vi possiamo proporre è l'affiliazione di Instant Gaming Se volete acquistarlo da lì costa 5 euro in meno Quindi Esatto Però youtuber live non è assolutamente No Non è assolutamente una sponsorizzazione Allora Va bene Questo vuole questo Vabbè rotate the camera Ok move your camera Zoom with the mouse wheel Abel tutorial Rotate Che grado Che grado Che grado Si prende mi ancora in giro in questo tutorial di merda Scegliamo il gioco Uh Guarda quanta scelta Per pc dvd rom Ok Ok Si va bene Fai il gameplay Possiamo fare solo questo Start video Ok Intanto qui vediamo una citazione Primo Zelda Attenzione Si La coperta Che non penso che è il signor bimbo No assolutamente Dove cazzo si è intersecato il bimbo E questa che minchia La mamma Abbiamo scoperto la mamma di bimbo minchia Attenzione Attenzione Mamma minchia Quindi è così E Ramon Ramon in questo momento chissà dove è infilato O dove sta infilato Ma come è scoperta sta casa Tutta corridoi Tutta l'altro Queste stanze sono buie e vuote Low resolution Però la possiamo fare Tipo il video 144p Nessun filtro E monodirectional C'è una schifezza Ok Continuiamo No no Dobbiamo fare un titolo a chi appesco E quindi Clickbait Tetteculoano Next Ce l'abbiamo ragazzi Per clickbait Il bello è che lo premettono Allora vediamo questo che fa Quindi in realtà è onesto È molto onesto Wow Attenzione Wow Epic game Esatto Epic game Attenzione Che dobbiamo fare? Ok qui ci mettiamo Un commento poco simpatico Unfunny Significa poco simpatico Un po' un easter egg Abbiamo trovato un easter egg Grande ragazzi Fino minchia che fa il nostro lavoro Grande Grande Easter egg hunter Ok abbiamo fatto questo video Io direi che possiamo quindi montarlo male Non stiamo facendo troppe cose Mettiamoci il titolo Sì esatto Soft focus lo facciamo No meglio anziché soft focus Ma ci sono dei punti Gradazione di colore Render 9 ore Cazzo Upload 8 ore E vabbè facciamo Come facciamo noi attualmente Interesse 46% Non è andato male Video quality 10 Script Ok performance Video editing Sound Questa mi ricorda un po' Ti ricordi quel gioco Game Dev Tycoon Game Dev Tycoon Ecco è un po' Allora dobbiamo decidere se clickbait tette culoano deve andare online Secondo me deve essere pubblicato Publish video ok Che deve andare a scuola Deve andare a scuola A scuola ci sono già state 18 anni Perché Giuseppe lo youtuber deve essere forse un ragazzino liceale Perché se no scusa Che altrimenti non ha senso Ovviamente O shopping O shopping O shopping Ah quindi non andiamo a scuola Facciamo shopping Ma così si no Su Amazing On o PC World O All Consoles Io direi Amazing On Al Fly 2 Attenzione poi c'è World Banner 30.000 Bellissima sta cosa Comprato Ci facciamo il gameplay Perché siamo Compriamolo Perché siamo Che ne so Sul pezzo Sul pezzo Esatto Clic qui Che hai detto culoano Stai fiumendo 78 79 views Non sta andando male Non sta andando male La mamma ci ha detto che la scuola ha chiamato E ci ha detto che non ci siamo andati Che bisogna studiare Giustamente non ci siamo messi a comprare giochi Ok ma io non studio cavolo Io volevo giocare E' arrivato il nuovo gioco Io direi proprio questo E stavolta possiamo fare Niente solo gameplay Usiamolo Però possiamo fare l'upgrade No abbiamo pochissimi soldi Tetto e culoano ci sta facendo guadagnare pochissimi centesimi Che poi è molto più di quello che si guadagna in realtà all'inizio Perché all'inizio non c'è la partnership No quindi già su questo si guadagna zero all'inizio Ok ci mettiamo come primo titolo Un clickbait Ovvero un ano gigante Sono morto Sono morto Sono morto Morto sotto un ano Ma perché? Sono fissato con gli animi Posso fare io stavolta il video? Perché devi farlo? Tu fai tu Allora Lei è quella di cantina Attenzione Look Happy expression Ok un'espressione felice Perfetto Adesso direi questo Perché voglio mettere un po' di post produzione Un po' di sound Ok E basta finito Next Possiamo andare Con questo video vi spiegheremo anche qualche segreto Di come si fanno i video su youtube Anche se poi non ci sono vere ricette Ecco così perfetto E adesso process Attenzione il rendering è leggermente Attenzione il 365% Sono morto sotto un ano Ha battuto, clickbait, tette, quello lì Ma sì perché quello era basato su un culo Su un gioco di merda Quindi tutto so Perfetto pubblichiamolo Possiamo pubblicarlo Direi che è andata bene E vediamo se il tempo di rendering ovviamente è lungo Intanto dormi, vai a scuola, fai altro Che studia, studia Sleep per esempio No cioè non è male Questo dorme e fai video Cioè bella cosa Parangelo questo gioco ci sta E' quello che è fatto meglio Non è male, è simpatico Possiamo continuarlo e vedere anche le videos che farà Sono morto sotto un anno Fateci sapere qui sotto se volete che continuiamo questa serie Perché a noi serve moltissimo il vostro feedback Perché abbiamo deciso di continuarla Almeno qualche serie Giusto? Sì esatto Lo continueremo Fatecelo sapere Ragazzi sta andando meglio Il clickbait Gli iscritti sono 76 e crescono Sì 119 iscritti Molto bene Oh e vai E quindi noi ci vediamo alla prossima Ciao